grande scrittore sardo grande scrittore in assoluto ma guardate le circostanze perché io quattro giorni fa quattro sere fa presentai a bologna l'ultimo libro di salvatore libro straordinario e come si riesce a concatenare rendere intrecciata le vite i destini perché io non sono due cose che sono nate così da sole perché ho letto il libro mi è venuta una voglia di sardegna dopo aver letto il libro di salvatore il fatto di conoscerlo finalmente di presentare il suo libro a bologna e di ritrovarmi dopo tre giorni qua io in sardegna ospite vostro ospite suo in quanto in quanto testimone proprio di questa cultura che si espande sempre di più oggi stiamo andando verso a una scrittura che sta ritornando iconografica cioè i messaggini non è più linguaggio scritto ma allora ci deve essere un grande scrittore che utilizza anche questo tu sei il più grande cioè i segnali stradali stanno diventando un elemento di poi nascono degli scrittori come lui dove le parole le tirano fuori dalla pietra dalla terra dagli alberi allora scopri che ancora le parole ci sono ma bisogna stendere un tappeto davanti a salvatore o quelli come lui dicono che non è mica l'unico al mondo però voglio dire le parole non è che ormai non le usano nei comunicati ufficiali perché stanno procedendo a fare una a creare una mutazione nel nostro dna seria profonda ci fanno con la scusa di andare avanti ci fa tornare indietro ma a me non mi spaventa questo mi fa ridere perché io ho 66 anni compiuti da 5 giorni e mi diverto perché a me non mi fottono la verità è che non mi fottono purtroppo penso che riescono a fottere della gente di 15 anni 16 anni se non hanno delle persone che pagando per conto proprio li garantiscono di fargli capire che la vita non è solo quella che gli fa vedere la televisione ma la vita sono più di milioni di anni che è un vento che spiola non avete un'idea di come è diventa bello se non bellissimo il piccolo confrontato a tutti i sistemi che oggi vanno per la maggiore a una serie di istituzioni che sono quasi diaboliche come spesso fa la televisione e i vari programmi di amici x factor bim boom bant grandissime presi in giro che anche loro però hanno significato per darci una misura di quello che il respiro del mondo oggi certo che non è un respiro di un popolo il popolo è sottostante e subalterno siamo costretti a vederli perché per quanto sia tinta è sempre una luce quindi il televisore sapete anche i nostri antenati ce l'avevo il televisore se lì si chiamava caminetto e allora finito si mettevano lì si scaldavano e poi ragionavano loro non il fuoco e invece oggi la televisione ragiona lei e noi siamo solamente degli spettatori veramente costretti succubi e in qualche modo schiantati contro una parete una poltrona benedetto le volte che ci addormentiamo perché così il sonno ci rende immuni da una specie di castigo nucleare che è una gestione del della comunicazione oggi che non passa più attraverso il popolo cioè prende la reazione del peggio del popolo il mio non è un discorso conservatore assolutamente è proprio credo che dobbiamo fare i conti col mondo che c'è ma dobbiamo anche mettersi in condizione che siamo in grado di combatterlo nei suoi momenti negativi non dobbiamo essere subalterni nessun cui né destinatari di messaggi che a volte meglio non ricevere questo non significa che bisogna spegnere la televisione o le radio bisogna avere quel minimo di lucidità per capire questo è fatto per me questo è costruito da me o da quelli come me e invece questo è fatto dai miei nemici questo è un distinguo che ogni scuola deve mettersi in condizioni di insegnare soprattutto ai più giovani di non credere nella trappola per volpi stupide cieche come a volte siamo noi e di conservare quel minimo o quel massimo di autonomia che ci consenta di giudicare o di pensare ai giorni che verranno come qualcosa di serio non una buffonata concepire i giovani oggi e senza la loro naturale tendenza a essere anche un fenomeno giustamente versivo cioè versivo nel senso buono della parola c'è il giovane perché deve essere un giovane quieto perché deve essere un giovane ben pensante perché deve essere un giovane rincognonito allora se non lo è di natura per farlo esattamente come vuole lui diciamo il potere è una parola che non si usa quasi più ma il potere potere per farlo così ha bisogno di stordirlo perché lo vuole stordire perché non vuole più un fenomeno reattivo perché abituato a considerare dei giovani oltre la retorica che usa spesso quando parla dei giovani come un elemento da legargli le ali allora ai giovani è proibito fare un sogno serio insomma gli è proibito di volare ecco perché la chimica ecco perché le pastiglie nelle discoteche ecco perché l'ubriacamento insomma i giovani non devono pensare perché in qualche modo siano veramente schiavi fin dall'inizio allora gli danno questa sorta di specchio per specchiarsi e gli danno le pillole per vedersi belli naturali invece non si vedono con i denti già cariati con la lingua fuori dalla bocca per sete non soddisfatta ecco noi devo dire abbiamo vissuto una società peggiore di questa dal punto di vista del comfort poi non parliamo qua in sardegna dove veramente il tempo si è fermato ma io dico meravigliosamente si è fermato non solo purtroppo poi ci sono dei momenti anche che purtroppo però in realtà l'integrità del giovane è uno simono cioè il giovane non deve essere integro i giovani integri li voleva il nazismo quando voleva fare una generazione di belli alti biondi che sono esattamente il contrario di me e allora non dobbiamo essere tutti uguali non dobbiamo avere gli stessi miti non dobbiamo avere gli stessi sogni non dobbiamo avere neanche lo stesso aspetto estetico noi siamo invasi dalla pubblicità ma la vera ragione non è solamente il commercio ma perché il potere potere sogna di avere esseri umani tutti uguali che siano facili quando si mettano dentro una scatola che siano facili da mettere dentro l'armadio ma dentro un armadio dentro una scatola se non si respira male però in realtà loro dovrebbero ricordarsi che dieci anni fa c'era una canzone che io feci che si chiamava canzone che vendette un milione e mezzo di copie il record di vendita in realtà è la canzone tutto sommato meno rappresentativa del mio modo di scrivere perché è una canzone bella allegra semplice come la voleva poi questo potere che vorrebbe che tutti non pensassimo e infatti ha venduto un milione e mezzo di copie c'è tutti mi fa piacere che loro non ricordino questa mi dispiace che non ricordino e li capisco anche una canzone come l'anno che verrà perché in realtà è una canzone amara ambigua è una canzone che parlava anche tra le righe del sequestro moro cioè quando ancora c'era la possibilità di discutere con la gente che ti comprava c'è chiaro che si compravano i dischi ma io quando compravano il mio disco il mio sogno era che nello stesso momento che lo compravano lo discutessero e c'è un altro tipo di ascolto che oggi non è più consentito veramente quando parlo di x factor ma sembra una trasmissione di deficienti ma veramente ragazzi quando parlo del grande fratello ecco è veramente come mettersi dell'eroina veramente in un occhio quando guardiamo amici quando guardiamo il telegiornale allora io dico non rinunciate a questo tipo di società visto che ne fate parte ma discutetela combattetela e allora se tu sei maestro loro è giusto che tu li metta sull'avviso ma anche giusto che ti viene qualcosa di diverso da quello che vedono tutti i giorni glielo proponi c'è la non conoscenza sembra una distrazione di quelle che ne sono vittime ma è soprattutto una distruzione una distrazione dei gra dei loro maestri non è che devo farvi le confidenze io sono credente mi sento cristiano però io non sopporto davvero cristiano neanche lontanamente di pensare che la chiesa politica organizzata e strutturata come oggi corrisponda al messaggio di cristo proprio non ci penso nemmeno per sogno c'è un papa che va in africa e dice agli africani non dovete usare il preservativo è una cosa folle ma veramente folle ma non è solo nel comunicato che dice ma nella presunzione di essere lui guida di un popolo che non conosce di un di ragioni che non affronta di essere una specie di esposizione di gioielli di oro che va in giro per il mondo che parla dei palestinesi che non andano a mangiare dice mi dispiace che non andano a mangiare poi dopo è praticamente una specie di pubblicità allora quando io guardo queste cose dico per fortuna che c'è nascosta nell'anima anche più confusa un qualcosa di vitale che è l'insegnamento di cristo che non è l'insegnamento del papa di questo o di quell'altro o di quella che dice che attraverso la privazione si riesce a capire il mondo non attraverso la pubblicità quindi rifiutando i grandi segnali certo che è facile ognuno di voi potrebbe dire certo che tu sei un uomo di successo c'hai le macchine c'hai le case ma io quando faccio un concerto vi faccio un esempio l'anno scorso insieme a marco alemanno che ha scritto un libro con me siamo stati invitati a cantare al raduno dei papa boys che sembra una moto a loreto e c'erano 500 mila persone e abbiamo cantato una canzone che mi ha che ho voluto cantare anche ieri ed era impossibile perché non c'erano i macchinari per farla bene però l'abbiamo fatto in maniera eroica per dirvi che il pubblico di ieri sera che saranno state 250 400 persone ha compreso quella incinta va bene ma è stato più emozionante ieri davanti a 300 400 persone che davanti a 500 mila certo che la gente era uguale ma la circostanza non era la stessa noi dobbiamo abituarci alla privazione non dobbiamo essere costretti a comprare tutto quello che ci dicono di comprare perché comprare il minimo vabbè ci portano via due soldi ma aderire ai loro segnali è delituoso cerchiamo di capire veramente chi ci mette la supposta dietro cerchiamo di capire le intenzioni e non guardate vado oltre non parlo neanche di malignità non c'è dubbio che il potere è una cosa deprecabile sempre qualsiasi tipo di potere di sinistra di destra di sopra di sotto ecco noi dobbiamo essere in qualche modo perlomeno desiderare di esserni esenti noi come protagonisti io non voglio avere il potere su nessuno cioè mi fa orrore questo tipo di patrimonio questo conto in banca che ma non perché mi spaventa l'economia certo che se dovessi scegliere tra essere ricco e povero cercherei di essere più ricco che povero però la povertà spesso non è così umiliante come la ricchezza cioè la ricchezza è veramente un'umiliazione per chi ha un attimo di possibilità di riflettere che cosa significa avere qualcosa che gli altri non hanno è terribile grande fiducia nelle possibilità che ognuno di noi ha anche di modificare il mondo questo è bello noi possiamo veramente modificare il mondo però per modificarlo in senso buono dobbiamo averne un grande rispetto e soprattutto noi artisti tra virgolette dobbiamo avere un grande rispetto di chi di quelli che vivono il mondo che sono gli esseri umani quindi non siamo proprio unti dal signore siamo un'espressione del collettivo dell'anima collettiva che pulsa in continuazione ma dobbiamo avere anche un senso di responsabilità che non ci viedi di sbagliare perché è bellissimo sbagliare se non sbagliamo vuol dire che non proviamo a fare quindi se non proviamo a fare non sbagliamo se stiamo fermi siamo veramente quelli che potere vuole che siamo degli animali da mungere oltre che dei delle scimmie da ipnotizzare grazie grazie grazie